Musica Ben a tutti ragazzi qui a ZAR77 che vi parla Siamo tornati in un nuovo video Allora ragazzi oggi siamo tornati in un nuovo video sul canale Dopo tantissimo tempo che non facevo i video ragazzi Veramente ce l'ho fatta a portarvi un nuovo contenuto sul canale Ragazzi scusate se non ho fatto più video da un sacco ma Veramente sono stato molto impegnato ma adesso giuro che riporterò i video Ragazzi qui oggi siamo su Mario Kart Che è un nuovo gioco della Nintendo ovviamente Che ragazzi vi lascerò qui il link sotto in descrizione Se volete passateci in installatelo Ragazzi adesso aprimeremo Non so come funziona ma qui c'è scritto Scorri in basso per lanciare Vediamo che ci capita Evviva Toadhead Raro Vediamo Stai cadendo lo schermo Ok quindi qui dovremmo gareggiare praticamente Penso Impara le basi Fai scorrere il dito a sinistra e destra per serzare Ah Ah ho capito No Carino ci sta dai raga Non sono troppo bravo quindi Un po' difficilino comunque guidare Non è Cavolo Oddio Ragazzi io non so tanto bravo è quello il problema No Vai di qua Raga Ok quindi Dovremmo fare una gara penso Vai ragazzi siamo terzi Cerchiamo di prendere Cerchiamo di prendere Dopo proverò a cambiare i comandi perché Non sembrano tanto buoni questi Questo qui ce lo teniamo Ora lo spariamo Ci abbiamo quelli nuovi Andiamo qui No Cos'è successo Oddio raga cos'è sta roba Boh vabbè fine Penso che abbiamo vinto Primo Ok Come funziona adesso Dove ci porterà Oh ce ne abbiamo un altro Vediamo Speriamo di trovare Non so un leggendario Se ci sono Boh Pitch Bello Secondo me è molto buona Ok Qui mi chiedo un attimo di fare l'aggiornamento Quindi Aspettiamo due secondi Ok ragazzi Vi volevo dire solo un secondo Come giustrerò i video E penso le live se le farò Perché non Ora sono abbastanza impegnato con la scuola Comunque perché Sono i primi giorni E cioè Sono già finito due settimane Però comunque Devo cercare di andare bene subito Quindi penso di far uscire due Massimo tre video a settimana Se ce la faccio Perché Comunque è un impegno Giustrare Editare Non è che ci vuole poco Però Comunque Ci prova a far uscire Più video possibili Comunque Dovrebbero uscire Il Il martedì E il venerdì Un video il martedì Un video il venerdì Quelli lì due Penso sicuro Usciranno Ehm Ragazzi Questo video ve lo caricherò Il prima possibile Quando posso Non subito Cioè ragazzi per esempio Se ve lo carico domani Che Questo qui sto registrando Domenica Se ve lo carico domani Che Lunedì Non penso che uscirà Martedì un video Inizierò da venerdì Però comunque ci vuole Abbastanza tanto Per registrare Ragazzi Scrivetemi Nei commenti Che video Che volete che io porti E sul canale Di che giochi Non so Magari Boh Spacchettamenti Così capito Oppure su Altri giochi Ehm E niente così Consigliatemi sotto Nei commenti Ehm Adesso niente Andiamo Vediamo Tour di New York Ogni tour Dura due settimane Non aspettare troppo Per unirti alla competizione Dieta tina la mischia Fai vedere A tutti Che comando Ok Vediamo Allora Intanto voglio vedere Un po' Come il gioco Regali Regali Quindi ci sono i diamanti Ci sta il gioco In sé Però Secondo me Potevamo farlo Un po' più meglio Adesso non l'ho visto Ancora tanto bene Quindi Andiamo nei regali Non c'è un pacco regalo Niente Ok Ok Si sblocca Quando super Tutto un trofeo Quindi ragazzi Non so Dai Ci andiamo a sbloccare Un trofeo Quindi secondo me Dovremmo Andare qui E Penso Fare una partita E Usare I pitch La sua macchina Per forza Dobbiamo usare Per forza Questo Ok Siamo contro Comunque Degli altri player Non Cioè Non sono solo io Vediamo ragazzi Se ce la facciamo E A farcelo Ragazzi Comunque Vabbè Una cosa Ve la dirò Nel prossimo video Che è Molto importante E E Niente Ragazzi Scusate Un secondo Ma Mi si è chiuso La chiamata Mi si è chiuso Il video Partiamo Via Oddio Rega Sono per ora Primo Ci sta Però dovrei Prenderci Un po' La mano Perché Non è facilissimo Giocarci Ok Andiamo Ragazzi Secondo me Gli altri No Non sono Dei bot Però Ci assomigliano Ci assomigliano Ragazzi Vai Ragazzi Scusate un attimo Un secondo Ragazzi Scusate Scusate Ma c'era Un attimo Un po' Di casir Che erano I dratti miei Però Comunque L'abbiamo vinta Scusate se non ve l'ho fatta vedere Ma Non Conco l'ho vinta Abbastanza facile Vediamo Vediamo ora Se ci daranno I punti Però Perché Non ho ben capito Come funziona Ok Livello Giocatore 2 Classi 100 CC Sbloccato Sarà la cilindrata Ci ha dato tutti I punti Ok Vediamo Ok C'è dato Le mega stelle Se qualcuno sa Darmi qualcosa Un consiglio Me lo scrivo Nei commenti Dopo Vedete Qui si sbloccano Altre cose E quindi Noi non abbiamo I trofei Ancora Vero Superi Un trofeo Ragazzi Non ho ben capito Come si sbloccano I trofei Però Vabbè Ragazzi Comunque Questo video Spero che vi sia piaciuto Era un video Di introduzione Per comunque Aggiornarvi Sul canale Non è detto Che riporterò Questo gioco Perché Veramente Ragazzi Non mi piace Tanto Però Vedrò Se farci Qualche altro Video Va bene Ragazzi Io spero che Vi sia piaciuto Lasciando un bel pollice Di su E noi ragazzi Ci becchiamo Ad un prossimo video Vi ho già detto Già gli orari Bella ragazzi